La candidatura venia di bianca a Cittadino Natale La candidatura venia a Cittadino Natale Mettiamoci la prova, guarda, però, vai, frutti. No, va, parla solo di una cosa, Giovanni è bravo. Giovanni, vai, parla anche adesso. Cosa vuostete anche dire, no? Cosa vuol dire che vi dica? Non so, ci vuol dire, c***o, io capisco, ragazzi. È un'assuntante che ti... Ho avuto il traduttore qua dentro, quindi... È un'assuntante che ti è mille ansie, del mese del mille ansie. Aia, 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 questo è duro, aspetta adesso. Non è capitale, no? È un'assuntante del mille sinc'essenze U. De mille ansie. E non è capitale, no? La FHaTA del migono, è tutta messa. Aia, aia, aia svetetta, del mille ansie controlla svetta e insinuzione...